E' andato a una scuola di Roma il premio Pulci nella Mente, ispirato alla storica maschera partenopea capace di seppellire il potere con una risata. Infatti l'istituto vincitore del concorso nazionale di teatro didattico è la scuola elementare di Via del Calice a Roma. Pulci nella Mente è nata 18 anni fa in Campania, a Sant'Arfino, la terra delle commedie più famose dell'antichità, le Attellane, ed è una delle più importanti a livello nazionale. Un bilancio estremamente positivo, quello della diciottesima edizione di Pulci nella Mente che ha fatto registrare molti successi, molte presenze di qualità, riflessioni di grande spessore e soprattutto la possibilità che il sogno che da anni coltiviamo, cioè quello di costruire la cittadella dell'arte e della cultura nella terra che diede in Natalia al teatro italiano, cioè le fabbole Attellane, possa in qualche modo avverarsi. Le altre scuole vincitrici sono l'istituto comprensivo Romeo Cammisa di Sant'Antimo per le medie e l'ISIS Vittorio Veneto di Napoli per le superiori. Il premio della critica è stato assegnato all'Iceo Classico Emilio Ainis di Messina, mentre la medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andata a circolo didattico Giovanni Pascoli di Grumo Nevano. Pulci nella Mente nel 2016 ha messo insieme oltre 10 giorni di spettacoli, 50 eventi, 40 scuole in finale e oltre 10.000 spettatori in fila per i giovani artisti.